Ti ha risposto Maria, quindi non rompere più, ok? Io li ho frequentati sempre quando erano singoli e ti lasciavano numeri anche ad altre persone, basta, ok? E ti posso garantire che lui la pensa come me e che non capisci? L'uomo, lui la pensa come me, che non capisci certe cose, lui la pensa come a me, è uguale. Che non capisco? Ma secondo te io non capisco? Secondo me no. Che cos'è che non dovrei capire? Allora, ti faccio un esempio. Perché dici cose di bocca tua per bocca mia? Quando tu sei stata talmente poco carina, cose che io non voglio dire. Le hai detto tu della roba finissima, l'ho detto io. Stammi a sentire, tu l'hai definito e gira le cose così, statemi a sentire. Stammi a sentire. No, statemi a sentire con lei. Se vuoi parlare con lei parli così, tu con lei, non con me. In questa trasmissione, l'altra volta che tu hai litigato con lei, che uscivo con te, mi sono avvicinata a te e ho detto questa non capisce peggio di un bambino di prima elementare. cose che hai detto tu, non ti permettere di dire quello che dici tu. Quando hai fatto l'esempio sulla roba finissima che mi hai detto qua fuori? Su che cosa? Che risorge dalle sue cene. Eh, la roba finissima. Non l'aveva capito. Se mi parla sopra non capisco io quello che dico. Ma vai, parla, parla, vai. Su quell'esempio tu mi hai detto, hai visto qua e mi ha guardato? Non l'aveva capito. Me l'ha detto stesso lei. No, vabbè. Vedi.